Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni, la neve è comparsa in Veneto e biancata tutta la regione, varia solo l'intensità e il conseguente accumulo a terra. E se sulle cime lo strato supera abbondantemente i 10 cm, in pianura la precipitazione si deposita con più fatica, complici anche i forti venti gelidi che sferzano l'aria. Le immagini che state vedendo sono state registrate nel primo pomeriggio dal terrazzo della nostra sede televisiva. Vedete la neve che ha ricoperto il nostro traliccio con i ripetitori, una visione diversa dal solito ma significativa di questo ultimo colpo di coda dell'inverno, come dicono i meteorologi. Dopo Big Snow, ora è arrivato l'orso siberiano, una perturbazione destinata a interessare il Veneto fino a venerdì mattina. I mezzi spargisale sono in azione su strade ed autostrade, l'intento è evitare i disagi che si sono verificati lunedì di carnevale. Al momento però le prefetture non hanno predisposto il blocco della circolazione ai mezzi pesanti. Nel corso di una riunione in prefettura Venezia, in cui si è fatto il punto generale della situazione, i prefetti delle varie città capoluogo di provincia hanno ritenuto non necessario, visto l'evolvere della perturbazione, emettere l'ordinanza di stop. Dall'incontro però è emerso l'invito ai sindaci di attivarsi per rendere le strade libere dalla neve e prevenire il ghiaccio, che con le temperature impicchiate, soprattutto nella notte, potrebbe trasformare le carreggiate in lastre di pattinaggio. Rampe, cavalcavie e sottopassi sono i punti sensibili da cospargere di sale. In ogni città sono in azione i mezzi spargisale, gli spazzaneve. Già pronte anche le squadre di protezione civile per rendere rientro a casa dei lavoratori il meno complicato possibile. E a Padova sono stati armati di pala anche i detenuti. Anche loro collaboreranno a sgomberare da neve e ghiaccio. Anche loro collaboreranno a sgomberare da neve e ghiaccio.